Jonathan Kashanian Jonathan Kashanian, età, altezza, lavoro e vita privata Chi è Jonathan Kashanian? Biografia, età, altezza e vita privata. Jonathan Kashanian, il cui vero nome è Jonathan, è nato il 15 gennaio del 1981, a Ramat Gan, una cittadina del distretto di Tel Aviv, in Israele, da genitori ebrei iraniani emigrati a Milano. . Alto 185 centimetri e di 65 chili, il ragazzo, a soli 19 anni, ha fatto un gran tour in Oriente-Tailandia, India, Nepal, Cambogia e Laos come viaggio di formazione. . Una volta rientrato in Italia, ha conseguito il diploma in moda e ha iniziato a lavorare come stilista, tra sfilate e showroom. . In televisione è diventato famoso grazie al Grande Fratello, è stato concorrente e vincitore della quinta edizione del reality show nel 2004. . Lo stilista è stato uno dei partecipanti più imitati dalla Jalapas Band per il suo modo di parlare, per la sua ossessione per la moda e per i suoi vestiti e oggetti decisamente strani. . Jonathan Kashanian, carriera dello stilista. . Dopo la vittoria al reality, l'ex Jeffino ha fatto carriera in tv. . 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